Sì, ci vedo un'opera. Allora, quando mi si è chiesto di gettare giù un titolo, al solito l'ho fatto male, perché parlare di corredi delle chiese in età medioevale vorrebbe dire parlare di tutto ciò che c'era nelle chiese. E considerato che le chiese davano un'immagine totalizzante del mondo della vita, c'era di tutto nelle chiese, anche gli oggetti più strani. Scusate, non vorrei sembrare distratto, come dire, divagatore, a me è capitato di vedere, che so dire, i reperti fossili, i quali venivano appesi per aria dicendo che erano i resisti del drago ammazzato da San Giorgio, o cose simili. Quindi tutto un immaginario che non era solo religioso, ma se vogliamo, cavalleresco. E poi c'erano anche altre cose. Pensiamo all'importanza delle reliquie, dei corpi santi, che muovevano pellegrinaggi sterminati, ecco, io non parlerò di queste cose, parlerei soltanto di ciò che era il corredo nel senso di oggetti che integravano l'ambiente delle chiese e servivano allo sviluppo della liturgia e della devozione al loro interno. E ho cercato di mantenermi, nella raccolta del materiale che vi presenterò, a un'area che è la più vicina a voi, cioè non soltanto Regalese, Lange, eccetera, ma anche, mi estendo, alla Diocesi di Saluzzo e un pochettino anche Alba, d'altro adesso no. Siamo lì, persino una piccola puntata in Valle di Susa, perché io ritengo che questo panorama culturale alpino delle Alpi occidentali sia talmente, come dire, integrato al suo interno e talmente aperto anche ad apporti che venivano da altri mondi, da altri versanti, che sia sempre utile confrontare le espressioni e le testimonianze che troviamo anche a notevole distanze l'una dall'altra e vedremo dei casi singolari, indubbiamente. Io non posso fare un discorso esaustivo, ovviamente, perché tra l'altro la vostra zona è una delle più ricche di patrimonio artistico. Pensate a tutti i cicli pittorici che ci sono che la rendono eccezionale proprio. E ho una informazione un po' imparaticia, nel senso che, cioè, sì, mi sono occupato di tante cose, ho avuto anche bisogno, per il mio lavoro, di tutore degli archivi, degli archivi locali, eccetera, di girare, quindi la geografia culturale del Piemonte mi è abbastanza presente. Però ho anche saccheggiato, ho saccheggiato pubblicazioni, ho ricavato le mie diapositive anche da queste pubblicazioni, e quindi credo venia in partenza, se ci fosse mai l'autore di queste fotografie, di questo sfruttamento dell'opera dell'altrui ingegno. Ci sono delle pubblicazioni molto utili che servono per questa zona. Pensavo, per esempio, chiacchierando qui con l'amico Secco Suardo, all'utilità di quel repertorio, che non è una cosa scientifica, ma che è stato fatto da Paul Termatt, sui tesori del gotico, che dà una documentazione ricchissima di tutte le chiese, di questo lato, diciamo, lato senso del cuneese, è vero così, ma poi anche tutte le pubblicazioni che sono uscite, quelle, per esempio, a suo tempo curate dalla comunità montana delle valli moregalesi, vero, a cui hanno collaborato persone che mi sono amiche, faccio un nome, Giovanna Galante Garrone, che è stata la funzionaria della sovrintendenza dei beni artistici per questa zona, e così via, e poi articoli pubblicati sul bollettino di Cuneo, ovvero che è così ricco, e da ultimo, ma quasi, quell'ottima pubblicazione che è stata, visto che è stata citata, vero, anche la diocesi di Saluzzo, è stata curata dall'ufficio dell'Arte Sacra della diocesi, vero, don Alamano e la dottoressa Damiano, sul patrimonio artistico del territorio della diocesi di Saluzzo, che è stata una bella ricognizione, a cui ho avuto il grande piacere di poter collaborare, e per questo anche ho rafforzato, diciamo, i miei legami con questo settore delle Alpi. Ritrodiamo, d'altra parte, che il Marchesato di Saluzzo si estendeva fino alle Langhe, avevo sentito parlare di Dogliani, che era un feudo saluzzese, vero, Marsaglia, vero, saluzzese, e tu sei fiende in questo paesaggio, vero. Boh, allora, io cercherei di riunire, in questa mia chiacchierata, delle realtà abbastanza diverse tra di loro, che possono essere delle chiese cattedrali, delle chiese monastiche, diciamo convenzionalmente abbaziali, e poi delle chiese parrocchiali o semplici cappelle, vero, esistono dei temi che sono ricorrenti, anche se però bisogna distinguere tra situazioni abbastanza diverse. Incominciamo col vedere la pianta di una cattedrale, una pianta fatta alla metà del Settecento, a Saint-Jean-de-Maurienne, voi mi detente perché è proprio la Savoia, parte il fatto che la Savoia è solo dall'altra parte delle Alpi, vero, e poi, per chi si occupa di un settore che è delle Alpi centro-occidentali, vediamo che c'è un'assoluta continuità, tra la Savoia e ovviamente la Valle d'Aosta, e, cosa c'è? No, no, niente, faccia pure, faccia pure, abbiamo sbagliato. Cosa scruta? È scrutto che, voilà, non avevo mica capito che erano delle slide. Eccola qua. Ah, è meglio, perché era formato francobollo prima, ecco, morale, ecco, questa bella pianta ci dà un'idea di come era organizzato all'interno di una chiesa importante, non soltanto di una cattedrale, e poi poteva essere anche la chiesa di un ordine monastico o degli ordini mendicanti. Vediamo che esiste un recinto, dunque, prima di tutto, ha un'abside molto profonda, con l'altare laggiù in fondo, vero. Poi, davanti alla zona absidale o di presbiterio, vediamo un recinto in cui è disegnato, impianta il coro dei canonici, che, vedete, costituisce proprio un rettangolo chiuso anche verso la navata principale, o meglio, aperto soltanto da una porta da quel lato, di modo che coloro che erano addetti al servizio divino, vero, quindi, alle ore canoniche, l'assistenza anche alle funzioni, i canonici, potevano raccogliersi in un ambiente, in due ordini di stalli, vedete, di diverse dignità, di diversa autorità all'interno della compagine canonicale, e, quindi, assistere e recitare l'uffizio, vero, in certo qual modo dentro la protezione di uno spazio non disturbato dalla presenza degli altri fedeli, i quali altri fedeli potevano, peraltro, vedere il momento culminante della consacrazione, l'elevazione, per cui, secondo la, diciamo, la prassi dell'epoca, quasi si faceva risiedere tutto il significato della messa, vero, anche se, ovviamente, è essenziale, però, il momento eucaristico era un po', diciamo, eclissato da questo, e vedevano questo momento attraverso la porta che si apriva verso la navata, ci si dirà perché questa separazione, ma, innanzitutto, come dico, per un bisogno di raccoglimento, le chiese erano molto più praticate dai protagonisti della vita quotidiana, ci si commerciava in chiesa, non in senso proprio blasfemo, di profanazione, ma ricordo, per esempio, di aver visto che una volta che a Vercelli volevano ingaggiare un professore di diritto, mandano degli omissari a Cremona, a cercare un mobono di Cremona, non lo trovano, e gli dicono, bene, ti lasciamo un sacchetto delle monete qui su un altare, venitilo a prenderle perché ormai sei impegnato a venire a fare lezione da noi, vero? Quindi luogo di contrattazioni, vero? E anche di chiacchieramenti pur parlero, beh, simili. Quindi, e la gente era molto più disinvolta anche nella sua devozione, era irruente, vero? Quando aveva una motivazione forte, era capace di andare a ridosso di un altare. La preoccupazione che ho visto nei decreti sinodali ancora nel 600 era questo di parare un pochettino l'eccessiva inverdenza dei fedeli che in momenti andavano a sedersi sull'altare, insomma. E bene o male, insomma, la sensibilità era quella. Non solo, ma avere uno spazio così difeso, vero? Foderato all'interno da questi stalli lì che avvolgevano in qualche modo la persona, voleva dire avere anche una difesa dalle durezze del clima, anche interno, mica erano riscaldate le cattedrali, vero? Le chiese, vero? Ci si moriva di freddo. E quindi tutto era, come dire, mirato a creare delle condizioni per una presenza opportuna nel servizio appunto ecclesiale. Là, anche se i fedeli restavano un po' all'esterno, ci si rivolgeva ad essi perché essendo chiusa, vedete là, il recinto dei canonici o degli ordini religiosi, una specie di ponte, vero, che si chiamava il jubè, perché di lì veniva impartita la benedizione, iubè domine benedicere, se non sbaglio era la formula, no? Eccetera, di lì venivano anche fatte le letture, magari in latino, quindi che capiva, chi capiva, insomma, però, era un luogo di dialogo tra i celebranti e il popolo dei fedeli, vero? poi c'era anche, naturalmente, vi erano anche dei pulpiti per la predicazione che era estremamente impegnativa, le nostre prediche non erano mica di dieci minuti, erano, erano, duravano una giornata, Bernardino da Siena predicava sul campo di Siena, tanta gente c'era e li intratteneva per una mezza giornata, ecco, come facessero poi con la voce dovevano avere dei polmoni formidabili questi predicatori. Ad ogni buon conto, vi faccio vedere alcuni di questi complessi, voi direte perché la pigliamo così da lontano, ho detto, proprio per via di questa omogeneità e continuità tra le espressioni di queste tradizioni, vero, anche strutturali, vero, delle chiese. Adesso per andare avanti, mo, cosa faccio? Vado con il, vado col clicchetto? Ecco, vediamo qui il coro della cattedrale di Susa, il quale non era nato per essere stipato, malamente come avvenne nel 6-700 nell'abside, ma era precisamente dentro questo recinto rettangolare di fronte all'altare maggiore. Tra l'altro, uno dei cori più antichi che conserviamo perché è stato costruito verso il 1330 quando viene tutta ristrutturata quel lato della cattedrale, che allora non era cattedrale ma era abbazia di San Giusto, importantissima, uno degli alti luoghi vero del monachesimo sotto la tutela sabauda. Vediamo, e vedete laggiù in fondo c'è un seggio distinto, guardate adesso questi miserandi cenci che sono stati messi lì dentro nell'Ottocento e che non si è ancora avuto il coraggio di strappare, anche perché dietro chissà cosa c'è, è un restauro con i fiocchi, pensate, una cosa del 1330, si vede il seggio dell'abate di fronte al quale simmetricamente vedremo c'è quello del priore claustrale, le due autorità quindi della comunità monastica e un baldacchino sul quale non posso dilungarmi sugli aspetti iconografici perché sarebbe un'enciclopedia, uno speculum vero di tutto l'immaginario medioevale c'è una caccia simbolica, una serie di animali dentro medaglioni che si inseguono, da una parte c'è un cacciatore e che i cacciatori non godevano di buona stampa intendiamoci perché ricordo tutti i teologi vero 1100-1200 dicono che i cacciatori sono crudeli e applicano le crudeltà in ogni rapporto anche un cacco quindi poco votati al paradiso come i soldati d'altra parte e quelli che si salvano sono i contadini che sono abituati a subire e a lavorare questo lo dice Ilario Diotten dall'altra parte invece c'è un angelo che sta suonando dentro una tuba allora si capisce che tutto è scatologico il discorso la caccia chi sono? sono semplicemente gli umani le anime inseguite dal cacciatore cattivo che è il di Alvo e chiamate invece dall'angelo in questa visione un tantino preoccupante insomma del rendere conto della loro vita andiamo avanti vediamo ecco di lato il seggio priorale è pieno di simbologie lì dentro non mi trattengo avevo collaborato a un volume insieme con altri studiosi che è uscito dalla fondazione di Cassa degli Spami di Torino che si chiamava La fede e i mostri non perché la fede generi i mostri ma perché la simbologia medievale è piena di questi animali fantastici con significati e questo è il lato opposto con invece ricostruito la piramide autentica il sedio lo stallo del priore claustrale quindi dobbiamo immaginarcelo distribuito invece su una pianta rettangolare questo è capitato più o meno da tutte le parti con il coro dell'abbazia della Novalesa addirittura è capitato di peggio essendo stata soppressa l'abbazia anzi priorato ormai della Novalesa nel 1821 il parroco di Bardonecchia andò rie pieno di buona volontà si raccolse i cocci di questo coro e li ricostruì all'ammeno peggio nella parrocchiale di Bardonecchia distribuendo ciò che anche in quel caso lì la zona è proprio chiarissimamente riconoscibile ciò che era disposto su una pianta rettangolare assieme il cerchio nell'abside della chiesa ricostruita qui è interessante il tema lo accenno appena perché vedete che nella parte nel Baldacchino si rincorrono dei bedaglioni in cui si alternano apostoli e profeti gli apostoli con un versetto del credo e i profeti con un versetto biblico che corrisponde in certo qual modo secondo anche la interpretazione medioevale il richiamo tra i due testamenti vero al contenuto degli singoli enunciati della fede questo si inseriva nella tradizione che voleva il simbolo apostolico composto dai singoli apostoli vero il qui vedono come è stato conciato questo questo chi lo dice lo racconta vero questo paroco nel 1823 dice avevano connessans cioè alla diavola la buona così abbiamo ricomposto queste cose e un po' hanno segato un po' hanno sacrificato un po' hanno combinato insieme l'hanno conservato perché tanto nessuno se ne sarebbe occupato sarebbe margito nella sua abbazia abbandonata ecco qui un cor monastico della certosa di banda che è una piccola certosa che c'era in Val di Susa Villarfochiardo ecco qui abbiamo proprio l'idea della cella quasi che incapsula il singolo monaco per difetterlo da non si sa che cosa perché erano solo loro in una in una certosa non c'erano dei fedeli che disturbassero ma dal freddo direi da tutti quelli che erano gli agenti ambientali che potevano farlo soffrire vero visto che soffrivano già abbastanza starsene in montagna vero e questo è il coro della cattedrale d'Aosta dove la teoria degli apostoli dei profeti si spiega invece sui dossali degli stalli maggiori con queste figure molto energiche molto forti a rilievo vero opera di uno scultore Jean Descetro che era da Valle d'Aosta e di un altro invece che era del Fosigny tra l'altro anche loro partecipi di questa cultura che tra Svizzera occidentale Savoia e Valle d'Aosta configurava un unico ambiente scusate un unico ambiente ecco adesso andiamo a vedere una pianta di un'altra abbazia quella di Staffarda e ci avviciniamo a noi e vediamo la sistemazione che è stata data al coro alla metà del Settecento quando si è trasferito dal recinto che qui si riconosce ancora lì davanti vedete a tergo dell'altar maggiore e l'epoca tra l'altro e ne parleremo nella prossima lezione in cui gli altari non sono più addossati non sempre erano addossati in fondo all'abside ma vengono isolati come si diceva alla romana anche per un ripristino di tutta la tradizione liturgica che voleva che l'altare potesse essere circuito durante certe cerimonie vero e quindi non fissato da uno dei lati vero non c'era ancora la preoccupazione dell'altare rivolto verso il popolo però indubbiamente si incomincia a nuclearlo per così dire dall'involucro architettonico e l'altare il coro di Staffarda ha avuto un'avventura piuttosto rischiosa nel senso che cioè nel 1846 su sollecitazione di Roberto D'Azeglio che era direttore della Corregia Quadreria e di altri artisti storici Carlo Alberto è stato interessato affinché lo sottraesse al pericolo di marcescenza vera e buona non c'era non era più afficiata la chiesa bazziale e allora Carlo Alberto ha incaricato il suo stipettaio di adattarlo all'abside semicircolare della chiesa parrocchiale che aveva fatto costruire a Pollenzo e così è venuto a Pollenzo e lo stipettaio dice nelle sue memorie che gli piangeva il cuore all'idea di dover intervenire su questi capolavori di intaglio decisamente di cultura francese in questo caso vero era stato fatto fare da un marchese di Saluzzo o meglio da uno dei figli di Lodovico II e Margherita di Foix il quale era stavo cercando un eufemismo era uno scalzacane non aveva ordini religiosi però era abate di Staffarda vero e però doveva essere un uomo di una certa indipendenza mentale infatti la madre lo fece rinchiudere nel castello di Verzuolo perché parteggiava per la parte imperiale mentre invece lei si comportava da principessa francese vero ebbe un breve periodo in cui fu Marchese di Saluzzo e poi andò a Mingo e basta è stato uno degli ultimi con cui si è estinta la dinastia e la Francia si è mangiata il Marchesato di Saluzzo che si è tenuto fino al 1601 ad ogni modo costui aveva fatto lavorare fiori artisti fatti venire dalla Francia e anche qui non posso permettermi di andare nei dettagli vi garantisco che è un universo questo coro guardando anche solo le misericordie cioè quei sedili bassi a cui si appoggiavano i religiosi durante la recita dei salmi vero così sono delle testoline le più strane le più preoccupanti certe volte c'è persino un turco vero c'è un essere dalle lunghe orecchie che appartiene alla cosiddetta teratologia la dottrina degli esseri mostruosi che era nota fin dalla Tark d'antichità ed era il e ce ne sono altri c'è per esempio l'uomo con la testa di cane vero il cinocefalo a cui credevano esistesse davvero ancora nel Cinquecento vero forse perché avevano visto qualcuno con una faccia non tanto bella in qualche paese lontano e credevano che fosse un uomo dalla testa di cane tanto per dire un'enciclopedia più simbologie varie questa parte recuperata a Pollenzo però non era tutto perché ne rimase un pezzo che arrivò per interessamento scusate qui forse c'è stato un salto non so perché si vede o fu andato là ecco fu recuperato nel 1870 al museo civico di Torino dove c'è questo allestimento Palazzo Madama che però non dice niente di quel che era la struttura originaria perché vedete che c'è una grossa residenza liturgica a tre posti intercalata tra quel che rimane degli stalli ci sono gli stalli angolari perché risvoltavano vero dal lato del tramezzo vero così ma in buona parte sono stati ricostruiti e credo sfidare chiunque a sedersi in quegli stalli manca lo spazio e così via con tutto ciò era una di quelle ambientazioni in stile storicistiche come si diceva che erano ancora in uso negli anni 30 del novecento qui passiamo invece a una cappella privata che era la cappella del castello di Revello che apparteneva direttamente ai marchesi di Saluzzo e ancora nel 1833 del fino Muletti che era che era fratello dello storico del marchesato di Saluzzo vero la disegna in questa illustrazione che va a finire poi nella relazione dell'intendente Andi sulla quella magnifica relazione sulla provincia di Saluzzo vediamo che l'ambiente è fasciato da questi stalli che non erano ovviamente riservati a dei religiosi ma soltanto ai dignitari della corte che assistevano all'ufficio divino in questa cappella sono stati trasferiti nell'ottocento da Emanuele d'Azeglio in casa Cavassa e se avete presente c'è una magnifica sala con in mezzo la Madonna della Misericordia tra l'altro un titolo quanto mai alla page vero perché si vede questa Madonna veramente materna affettuosa che raccoglie sotto il suo mantello ci sono diversi signori ho scoperto ultimamente che non sono i marchesi di Saluzzo ma sono semplicemente dei confratelli di quello che si chiamava il consorzio cioè una confraternità di revello vero quindi niente di ci sono sì i marchesi perché erano i padroni di casa e li hanno messi ma gli altri sono tutta gente così assolutamente normale andiamo avanti vediamo un altro coro più vicino a voi a Benevagenna abbiamo nella chiesa di San Francesco che non è quella originaria per cui questo coro viene eseguito che si trovava fuori mura e come tante chiese stramurali venne distrutta nel Cinquecento all'epoca degli assedi vero questo coro che reca le insegne di due personaggi importanti una è la Paola Gambara che si nomina Beata Paola Gambara se non sbam la padrona di casa e l'altro era suo marito che era il costa della Trinità è uno strano arredo perché vedete che questo ha conservato tra l'altro il suo impianto rettangolare ma è stato per così dire rovesciato anziché vedete la famosa porta di cui parlavo laggiù in fondo che veniva aperta al momento dell'eleviazione credo anche della comunione se no i fedeli non avvicinavano il celebrante e ha conservato e ha conservato la sua struttura che è stata semplicemente rovesciata e da una parte scolpita questi sostegni che sostengono i baldacchini che è singolare perché la presenza degli stemmi dei due coni oggi ci consente di datarlo verso il 1520 vedete che ci sono delle figure fantastiche che sostengono il baldacchino ma se guardate bene la prima è un indio ha un casco di penne e ha un vestito tutto quanto ritagliato così come pensiamo che è una iconografia estremamente precoce degli indiani d'America 1520 ce n'era solo qualche disegnetto una volta ne erano venuti due o tre a Amsterdam li avevano fatti vedere come degli animali esotici vero così ma se no le poche informazioni e tutto sommato ha un significato importante perché ricordiamoci che i francescani erano coloro che avevano sostenuto anche in contrasto con gli spagnoli i conquistatori che quelli erano uomini come gli altri e quindi suscettibili di far parte della cristianità attraverso una debita predicazione una debita catechesi vero così quindi lì si vedeva come potenziali membri anzi membri di un'umanità chiamata né più né meno degli europei e degli altri vero alla storia della salvezza vero quindi è interessante questa presenza di personaggi esotici e qui ci siamo avvicinati dunque a chiesa non più come nei casi precedenti di un ordine monastico ma di un ordine vero di un ordine mendicante e qui ci avviciniamo ancora di più a Alba vero c'è questo bellissimo coro della cattedrale che fu eseguito da Bernardino da Codogno che era di origine lombarda però lavorava a Casale Monferrato dove eseguiva tra l'altro le ancone le strutture linee entro cui il panzotti metteva i suoi magnifici dipinti vero ed è stato eseguito per il carico del vescovo Novellis nel 1512 ecco qui abbiamo i fondali non più scolpiti con le figure degli apostoli eccetera ma con queste bellissime prospettive ecco guardate per esempio questo questo cortile vero di una casa che tra l'altro è strano c'è un campanino un laggiunco un mignolo di tipo veneto e questo signoro era di Codogno non era che so appunto della valle Padana orientale si vede che era il più diffuso questa tipologia di cammino e vedete che qui siamo per tempio 1512 vengono applicati i dettami della prospettiva come erano stati teorizzati da Piero della Francesca con una sapienza enorme poi usando legni di diverso colore perché è un'intarsi e ancora concludiamo questa carrellata sui cori con quello della cattedrale di Mondovì che sembra venga dalla certosa di Casotto quindi di nuovo ritorniamo ai personaggi scolpiti agli apostoli verne e dossali ma direi che hanno una potenza un'energia plastica che fa sentire il rinascimento in atto anzi addirittura già il momento del manierismo del manierismo del manierismo maturo in quanto è databile verso la fine del Cinquecento ma qui con questo episodio usciamo in certo qual modo dal limite cronologico che per questa volta ci siamo fissati perché siamo già nell'età del post-tridentino però è un coro rinascimentale in piena regola per cui dobbiamo immaginare una disposizione come quella che abbiamo detto per gli altri cori monastici e adesso siamo andati a spasso per ora solo fino al coro ma c'era davanti uno spazio cosa c'è in questo spazio la mia chiacchierata segue la distribuzione diciamo di questi oggetti di queste immagini in quello che era lo scenario di una chiesa quale che fosse sopra il tramezzo che chiudeva anteriormente il coro e che vediamo non era un luogo neutro perché di lì venivano impartite le benedizioni e venivano fatte le letture della messa c'erano normalmente delle figure uno era un grandissimo crocifisso che non era mai pezzolante come lo vediamo adesso per esempio nel Duomo di Saluzzo era sopra la chiusura anteriore del tramezzo e sovente era affiancato dalle figure della Madonna e San Giovanni evangelista dolenti quindi era componeva quello che si dice un calvario come è rimasto a Staffarda dove non c'è più il coro è stato addossato a una parete abbiamo queste sculture strane allungate nordiche vero di maestranza francese e abbiamo conservato ancora molti crocifissi tardo medievali vero in questa in questa zona che ha una caratteristica anche dal punto di vista della cultura artistica vedete per esempio questo bel crocifisso che c'è nella parrocchiale di Dronero che sicuramente era di grandi dimensioni è stato trasformato in un oggetto di devozione sull'altare del crocifisso in realtà era anche lui attaccato sopra certe volte laddove non c'era il tramezzo era sul trave che attraversava l'arco trionfale e che i francesi chiamano la putre del gloire il trave glorioso anche lì con ai lati la madonna e Giovanni Dolenti quindi in certo modo una sacra rappresentazione che attualizzava il mistero del Golgotha e sempre a Dronero abbiamo ah dunque questo qui nelle langhe il saliceto questo crocifisso che vedete è di una stessa scuola di una stessa tipologia tipologia che ritroviamo anche sul versante della Liguria occidentale ci sono degli scultori proprio con caratteristiche assolutamente identiche vero non sappiamo se è una scuola una bottega oppure diversi maestri che hanno lavorato a cavaliere delle alpi marittime vero tra Imperia e la provincia di Cuneo dico provincia di Cuneo che è una realtà tardiva ma insomma dovremmo dire queste aree vero sempre a Dronero sono finite nella confraternita ma sono troppo grandi per essere state anche se è molto bella la chiesa del Gonfalone ma è tarda e settegentesca queste due statue quella di sinistra è del 600 ma quella di destra San Giovanni con quest'aria appassionata vedete è di uno di questi scultori che ci ha lasciato delle opere importanti a Ponte d'Assio a Pornassio imposti così un suo compianto è addirittura finito nel museo di Palazzo Venezia Roma ma è Ligure ecco di questi maestri Liguri Piemontesi li chiamiamo Liguri Piemontesi perché non sappiamo esattamente la loro base dove fosse ma che certo venivano chiamati per questi lavori invece a Revello nella Cappella Marchionale ma anche qui non dovevano essere nella Cappella Marchionale ma probabilmente nella parrocchiale abbiamo queste due statue che sono state fotografate invertite perché dovevano guardarsi a vicenda della Madonna e Giovanni qui raccolte nel loro dolore ma non certamente impassibili capaci di coinvolgere il fedele come direi affettivamente nel mistero della morte di Cristo sempre in quest'area a cui si affacciavano queste figure c'erano altri oggetti tra l'altro i fotti battesimali che soltanto nel corso del Seicento in base a direttive che venivano grossomodo pur sempre da Carlo Borromeo del suo trattato dell'architettura 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 venivano spostati i fotti battesimali all'atto dell'ingresso mentre invece nel Medioevo potevano essere in mezzo alla navata anche secondo una tradizione antichissima tra l'altro e qui ne abbiamo tutto un bel campionario nella vostra zona pensate per esempio a quella famiglia di scultori in piedra un po' rustici gli zabreri che lavorarono per le valli del Marchesato di Saluzzo e questo è datato 1432 a Martignana Po ma non sembra riconducibile a quella zona poi sempre in questo spazio visto che lì c'erano i fedeli e che lì doveva svolgersi la predicazione c'erano i pulpiti e di pulpiti medioevali io conosco soltanto questo che è rimasto a Staffarda che è della stessa maestranza che ha fatto il coro vedete ancora gotico con queste peccato che qui sia molto buio non si veda bene a questi pannelli con delle specie di finestroni tagliati ma superiamo il tramezzo ed entriamo nell'area del culto del culto liturgico ovvero dove era conservato il Santissimo non era certamente in mezzo all'altare come ci ha abituato poi invece la prassi successiva al concilio di Trento col culto eucaristico era di solito conservato in depositi laterali a pareti a parete vero se ne vedono di grandiosi le chiese francesi ho citato Saint-Jean de Morienne uno che sembra una torre quasi da noi sono più semplici però vedete ce ne sono per esempio a Verzuolo vicino a Saluzzo questo qui che è datato 1473 ancora gotico vero all'Agnasco sempre in quella zona anch'esso gotico poi c'è scritto sopra Olea Sancta perché quando c'è solo la loro funzione di tabernacoli e vengono impiantati dei tabernacoli centrali in mezzo agli altari vengono usati di solito per contenere o reliquie oppure l'olio santo un altro vero apriero di un maestro che è stato individuato come presente anche sul versante Savonese vedete che nel timpano lassù c'è la figura di Gesù che esce dal sepolcro mostrando le mani piagate è quella che si chiamava il Cristo passo nel Veneto o imago pietatis il Cristo che cioè è ancora diciamo nel di là dal limite tra la vita e la morte è vero e però si rivolge al fedele come se volesse compendiare in un messaggio in un colloquio che ripeto avviene da oltre la morte tutto il suo sacrificio ed ostenta le sue piaghe vero e l'origine è un'icona tra l'altro bizantino il Basileus tesdoxes vero che era venuta in Europa aveva avuto il suo successo se vogliamo un'immagine metastorica che non corrisponde a un momento si potremmo dire il momento in cui Cristo è nel sepolcro però è un morto che parla che si rivolge il fedele e ancora questo rinascimentale di Villanova Mondovì che ha la data 1547 ecco dove stavano gli altari abbiamo detto che nel adattare dal 1200 circa non sono più isolati ma vengono di solito addossati o come abbiamo visto nelle piante di quelle cattedrali piuttosto in fondo alle absidi ma non proprio aderenti alla parete ma soprattutto nelle chiese parrocchiali e nelle cappelle vengono decisamente attaccati alla parete di fondo vedete per esempio qui a Celle Macra che c'è una piccola rissega proprio nella decorazione pittorica perché è evidente che l'altare che qui ha conservato il suo prospetto medievale vedete con una finta decorazione come se fosse un tessuto e sopra il trigramma di Gesù quello diffuso dalla predicazione di Bernardino da Siena che fu anche in Piemonte tra l'altro e quindi anche se probabilmente la mensa è un tantino rustica non credo che usassero una lastra una losa così eccetera ma sicuramente si inseriva nella parete ci sono però altri casi in cui la cosa è più problematica in questa vecchia fotografia della cappella di San Ponsio a Marsaglia recentemente restaurata vediamo che c'è un altare con una traccia di decorazione molto antica sul prospetto vero che simula quasi un palliotto di tessuto vero così e che è staccato dalla parete di fondo non credo che sia stato spostato perché un altare l'atterizio non credo si prestasse non possiamo mai teorizzare in modo assoluto una regola di solito aderiva dalla parete di fondo ma vi poteva essere anche il caso che fossero staccati allora ci abbiamo fatto di chiedere cosa si faceva in quel poco spazio che c'era dietro non c'era certo un coro lì dietro però può darsi che ci si ricordasse che per certe liturgie bisognava benedire in ogni censare l'altare tutto attorno mi correga Don Bessone se dico delle eresie ad ogni modo voi dicevo avete un campionario di chiese interamente rivestite parate di affreschi che è eccezionale e qui abbiamo quella di Bastia Mondovì io vorrei far osservare un'altra cosa queste chiese sono estremamente ricche di affreschi ma ci hanno conservato ben pochi pipinti su tavola sono pochissimi allora chi dobbiamo adebitarlo al solito saccheggio degli antiquari può anche darsi c'è una zona grigia nella storia della conservazione del nostro patrimonio artistico che è l'Ottocento in cui congiurando le soppressioni napoleoniche delle sedi delle congregazioni religiose e un distacco diciamo pure dalla tradizione per cui non dicevano più nulla queste cose se non alla consuetudine pia devota vero di qualcuno che andava a pregare davanti a queste immagini queste cose furono sacrificate io non vorrei fare una tirata di difesa per i preti che si dice che vendono se i preti vengono è perché i fedeli sono conniventi e consenzienti cioè il senso della permanenza di un messaggio religioso figurativo è venuto cadendo sarà stato il laicismo dell'Ottocento sarà stato anche se vediamo il gusto già perché pensate scusatemi se salto di palo in franca mi sono dovuto occupare della cattedrale di Remes no? una delle più importanti di Francia che qui veniva consacrato il re di Francia non c'è più niente dentro c'è soltanto un altare fatto da un artista piemontese il Ladat fatto nel settecento ma perché? un ricchissimo canonico che possedeva le vigne della champagne lì vicino ha pensato bene di investire i suoi soldi nel far fuori tutto ciò che era rimasto di medievali all'interno della cattedrale non ha gettato via fortunatamente le statue famose delle vero dei portali e di quelle cose lì perché? perché lui era un convinto assertore del gusto neoclassico per lui questo era tutta pacottiglia non serviva più a niente la visione del culto che si aveva era estremamente severa razionalistica quindi c'è anche a monte scusatemi se ho avuto divagare e cercare di spiegarmi il fatto che ci sia stato un impoverimento del patrimonio artistico altrove rimasto di più perché ce n'era di più adesso a Firenze e a Venezia ma da noi può darsi che ci siano state queste operazioni di scarto e non cito casi particolari che pure ci sono però io ho anche l'impressione che i nostri le nostre comunità rurali dovendo chiamare un artista dovevano fare i conti con le loro modeste risorse e probabilmente costava molto meno far dipingere un'immagine su una parete che su una tavola che esigeva procedimenti e materiali pensate il costo dell'oro in foglia che bisognava approfondere perché fino al 400 si faceva grande impiego vero per cui si rinunziava ad avere un'icona ma la si dipingeva sulla parete infatti se guardate bene qui proprio a Bastia Mondovì vero l'immagine della Madonna tra due santi che sono San Fiorenzo e credo San Martino ancora rappresentato come soldato vero così è circondata da una specie di fregio che la stacca dal resto della parete come se fosse un quadro appoggiato lì ma andiamo a vederne un'altra per esempio nella cappella di San Bernulfo qui a Mondovì abbiamo addirittura una parete che è organizzata come un politico vero con Madonna con Bambino al centro due santi vescovi ai lati la annunciazione in alta sinistra destra e sopra una rappresentazione che è molto rara in Piemonte è quella di Gesù stranamente solitario proprio perché si tratta di una situazione spirituale e non di un racconto di un episodio se no ci sarebbe tutto il tumulto del Golgoth attorno vero dei crocifissori il quale sta attendendo la crocifissione è un'icona molto diffusa nel nord nelle Fiandre in Germania dove lo si chiama il Cristo in attesa vero così da noi conosco soltanto un quadro di Defendente Ferrari della stessa epoca che è finito tra l'altro alla Carrara a Bergamo vero e dove abbiamo sempre il piacere di vedere questo piemontese un po' che gioca fuori patria vero e tra l'altro vedete un gran bel pittore che non ha ancora un nome già della fine del Quattrocento con questa grande umanità anche dell'immagine materna di Maria vero e eccolo qui il Cristo pensoso vero in attesa della crocifissione sempre di caso a proposito di queste icone dipinte vedete qui per esempio a Villanova a Mondovì vero questa parete è molto vulnerata da crepe da terremoti forse che è organizzata anch'essa come un politico di quelli che si usavano appunto ancora nel Quattrocento a due ordini con la stessa distribuzione dei soggetti che troveremo in una tavola dipinta vero e a Vicoforte Fiamenga vero anche qui un altare un'ancona ad altare a due ordini con anche gli archetti la parte strutturale simulata nella pittura ancora in questo caso qui non ricordo più quale sia di qualche cappella mi sono dimenticato di mettermi la didascalia per cui non lo ricordo anche questa organizzata vedete come un altare un trittico vero ancora qui non c'è addirittura Cosniella Tanaro mi pare sia questo no? vedete il riquadro centrale isolato da quelli ai lati che pure hanno dei soggetti abbastanza vistosi a destra abbiamo San Paolo Eremita e Sant'Antonio vero Abate e San Paolo Eremita che stanno dialogando tra di loro quando il corvo gli porta il pane allora fraterneamente prendono questo pane lo strappano in due e lo dividono tra di loro a sinistra invece abbiamo Gesù comece Omo tra San Rocco e un altro santo che non ricordo più chi sia vero anche qui la tavola centrale simulata come se fosse un dipinto andiamo andiamo a Boves cappella di San Francesco e qui abbiamo proprio il caso di una replica perfetta di una pala d'altare di un'ancona vedete Madonna con bambino al centro ai lati San Francesco e una santina che non so chi sia in alto la annunciazione il modello qual è? è questo qui Defendente Ferrari l'altare che c'era nel santuario della Madonna degli Angeli a Cuneo sparì io credo per le soppressioni napoleoniche vero è riemerso nel 1865 quando lo comprò il Museo Borgogna di Vercelli vedete una Madonna simile qui i personaggi sono di più due santi francescani San Francesco e il beato Angelo Carletti vero a sinistra vero però la struttura scusatemi se torno indietro vedete che è assolutamente analoga e affine anche l'immagine della Madonna che è di un artista che ha guardato di sicuro a questa tavola di Defendente Ferrari come fosse programmata però in certi casi la presenza di una ancona come si chiamava cioè di una struttura che conteneva delle immagini scolpite per esempio lo vediamo in questa cappella della Val di Susa in che ha conservato non è qui presente il suo altarino l'altarino è conservato nel bellissimo museo d'arte sacra del Melese sopra Bardonecchia che vi raccomando perché è pieno di belle cose è stato raccolto da Don Massè che è stato veramente un benefattore della cultura valzusina perché ha salvato dalle cappelle più disperse più esposte allo sgraffignamento dei ladri un sacco di belle cose e le ha riunite senza mandarle in un altro ambiente ovviamente sono rimaste nel loro spazio tradizionale diciamo se non nei luoghi precisi dove ripeto sarebbero state prelevate dalla mania vero e dal bisogno che l'antiquariato ha avuto soprattutto negli anni settanta di rifornirsi a livello internazionale quando tutte le Alpi dalle nostre montagne fino al Friuli sono state spazzolate è stata una guerra proprio una specie di non di iconoclastia di iconolatria per cui si andavano a rubare cose che avevano significato religioso per poi farle apparire nei salotti vero così e i tedeschi ne sanno qualche cosa perché hanno una particolare propensione per le sculture scusate mi sono qui per chiacchierare avete presente i gialli di Derrick no che sono girati in case vere non vengono allestiti in un teatro di posa affittano la casa del ricco la casa del povero perché siano naturali quando si vedono degli studi professionali o dei salotti guarda caso quasi sempre ci sono delle statue gotiche dentro perché ai cruchi piacciono molto queste cose vero morale qui tornando a Bomba abbiamo un'area vedete che è contrassegnato da un grande cardo che è semplicemente il punto della parete a cui si appoggiava l'altarino che è conservato mi piace che non ho una fotografia è un altare con degli sportelli che si chiudono e all'interno una statua della Madonna la pittura è datata 1496 e fa vedere come tra l'altro i culti girassero per le Alpi vedete che qui all'estrema destra c'è un vescovo che ha in testa la testa di San Giovanni in grembo la testa di San Giovanni Battista e San Grato di Aosta ma stiamo attenti Aosta era Sabauda invece qui siamo nell'alta val di Susa che apparteneva invece alla corona di Francia era delfinato vero quindi questo culto di San Grato che poi assume anche un aspetto meteorologico è quello che storna alla grandine è vero e aveva scavalcato le montagne ed era arrivato fino alla val di Susa ma perché? ma perché i montanari le attraversavano le montagne non erano delle barriere invalicabili si frequentavano i mercati dell'altro versante quelli della val di Susa saranno andati senz'altro a Modana Serenisando e Morienne e li incontravano i Savoiardi e hanno assimilato il culto di questo santo che oltre a essere cefaloforo cioè secondo la leggenda avere recuperato la testa di San Giovanni Battista la cui mandibola è conservata in uno stupendo reliquiario ad Aosta la testa invece sarebbe finita non so se San Giovanni è in laterano perché il Papa ha detto no no non prendertelo tutto e tu dammene pure un pezzo vero e quindi però è promosso a tutore delle campagne perché c'è un'iconografia in cui si vede lui che para via la grandine dunque parlavo di dipinti su tavole viva Dio ne abbiamo uno attualmente conservato nel municipio di Marsaglia se non sbaglio ecco ed è un gran bel quadro che viene datato all'inizio del Quattrocento di questo bellissimo pittore Rufino d'Alessandria che è uno dei maestri del cosiddetto gotico internazionale in Piemonte contemporaneo del più celebrato Iacquerio che lavorava per il Duca di Savoia ovviamente però autore di stupendi affreschi se li ha fatti lui a Villanova a Mondovino con dei personaggi di un'eleganza sfarzosa a dir poco ebbene c'erano anche nella vostra regione nella vostra zona verdi dipinti su tavola e mi sembra proprio strano che ci fosse soltanto questo qui di Marsaglia e poi qualcosa a Cuneo dove abbiamo Defendente Ferrari ancora nel museo di Cuneo nel museo civico ci sono due tavole di Defendente Ferrari mentre invece come vi ho detto l'altare della Madonna degli Angeli è finito a Vercelli invece Saluzzo era più ricca c'era quel pittore che si chiamava che veniva dalla Piccardia questa è la predella vero che si chiamava Hans Klemmer e che ha lavorato persino per Elva per Celle Macre e così via qui per darvi un'idea di come erano organizzati questi politici vero su tavola vediamo questo di Gandolfino da Torre da Roretto che viene dalla chiesa di San Francesco ad Alba vero e che ci dà proprio la stessa partizione che abbiamo visto riprodotta negli affreschi nella distribuzione delle singole icone dei Santi e della Vergine oh scusate qui invece abbiamo il maestro Delva Hans Klemmer che veniva dalla Piccardia io sono molto perplesso su sta facendo della Piccardia perché se si chiamava Hans veniva da una zona di lingua tedesca e quindi molto più probabilmente era la Lorena la Lotaringia vero comunque era Francia settentrionale questa cultura internazionale un meraviglioso pittore di una straordinaria umanità ecco qui si è perduta l'impalcatura del politico ma vedete che ancora ci sono delle tracce degli archi vero delle centine delle singole zone e ancora per citarvi una grande artista della vostra provincia Macrino D'Alba che in realtà lavora per il Marchese di Monferrato e ha la sua base soprattutto a Casale nella reggia dei Paleologi questo bell'ancona della parrocchiale di Neviglie vero con ancora la sua cornice originaria e finirei questa carrellata attraverso la tipologia degli altari rinascimentali con questa straordinaria ancona dell'altar maggiore di Staffarda che unisce il tipo dell'altare a sportelli che si usava soprattutto nel nord vero con invece una struttura di tipo rinascimentale alloggiati dentro le quali sono sistemate dentro tanti fornici dentro tanti archi arcate degli episodi della vita della Vergine se li si fadesse da vicino ci si accorge che sono scolpiti dagli stessi artisti che hanno scolpito il coro di cui parlavamo prima quindi dei francesi probabilmente venivano dalla Francia settentrionale stando allo stile vero Pasquale Odone Odone Pascale che era di Savigliano usa diversi tipi di altari in San Giovanni a Saluzzo venne anche uno a Sportelli che però è stato fissato nel 600 all'interno di una struttura barocca ecco cosa c'era sugli altari questo è un particolare dell'altare di Staffarda vedete con anche questi bei fondali dipinti da Odone Fascale che fanno quasi effetto di un teatrino vero ma sugli altari vi erano anche delle statue e le statue camminano nel senso che non solo camminano da quando sono state prelevate dai ladri ma già in allora potevano essere fornite da qualcuno che le produceva molto lontano nella cappella della Madonna del Campanile vicino a Busca c'è questa Madonna ridipinta insomma è uno strazio con quei colori al ducotone che gli han dato però guardatela bene impettita presenta il suo bambino ha questo manto che avvolge la sua figura con tutte queste piede il velo scostato che dimostra le chiome e se volete trovare sua sorella dico sua sorella si va a Exil in Val di Susa vero a Cels che è un piccolo paesino di montagna e vediamo prescindete dal colore che avete visto su quella là la struttura è assolutamente uguale della figura allora cosa ci fa una cosa fatta da uno scultore presumibilmente della Valle di Susa nel Saluzzese dal piccolo particolare che la pregostura di Ulx che aveva poteri quasi vescovili sull'alta Valle di Susa e scendeva con la sua giurisdizione spirituale fino a fino quasi a Susa dove pure aveva una chiesa Santa Maria Maggiore dipendente dalla pregostura aveva anche tutta una serie di chiese dipendenti nel saluzzese perché i marchesi di Saluzzo anche nella collina di Saluzzo anche nella zona di Revello eccetera avevano adatto a questa a questa grande fondazione canonicale vero che si vede che aveva ancora una grande forza una grande presenza vero anche dal punto di vista pastorale vero in cui non c'era in epoca in cui non c'erano gran chiare le idee su cosa fossero i compiti vero delle diocesi dei vescovi e quelli invece di queste fondazioni vero di canonici regolari tra l'altro evidentemente ha fatto fabbricare l'immagine della Madonna per mandarla in una di queste chiese dipendenti ma si possono trovare altre cose per esempio nel santuario della Madonna degli Angeli c'è questa bella Madonna col bambino di uno stile gotico inizio 400 che è molto difficile da situare come cultura perché ha forte affinità con cose che si trovano oltre Alpe che si trovano verso la Svizzera verso la Valle del Reno e in Francia è un periodo questo veramente internazionale in cui è molto difficile definire la precisa provenienza di un'opera d'arte che non abbia la sua etichetta sopra e ci dica dove è stata fatta e non si è appoggiata su documenti gli artisti viaggiavano molto ma viaggiavano anche le opere portate dagli ordini religiosi dagli ecclesiastici che si spostavano con grande facilità ci sono per esempio degli ecclesiastici del Marchese di Saluzzo che sono vescovi di Ginevra o di Lusanna vero quindi c'è una circolazione che di fronte a un'idea per così dire paralitica del Medioevo come di un tempo in cui si faceva o i prepotenti vero o i succubi i contadini o i signori vero in realtà c'era tutto un ceto i mercanti i religiosi e così via gli ecclesiastici i funzionari pensate anche a questi stati a cavallo delle Alpi come era lo stato Sabaudo per esempio qui c'era uno scambio tra i due versanti potevano portare con sé anche l'occasione di attingere la produzione di botteghe abbastanza forestiere la valle di Susa ha delle cose tedesche e non è propriamente confinante con la Germania vero concludiamo questa scorsa le presenze forestiere con questa magnifica pietà che si trova a Ceva e nera nel santuario della Guardia che siccome si trova su una parete piuttosto pericolante rocciosa pericolante ha dovuto cedere la sua immagine al Duomo come lo si chiama di Nostra Signora Assunta è una bellissima pietà tra l'altro l'iconografia della pietà non è poi tanto diffusa da noi incomincia a ritrovarsi nel corso del Quattrocento e viene da nord viene da nord nell'area Friuli Venezia Giulia in cui ci sono moltissime pietà di Scuola di Salisburgo o di lassù vero anche nella zona di Verona tra l'altro fatte da artisti vaganti in certi casi erano addirittura fatte a stampo dentro con una specie di stucco forte di cemento dentro degli stampa ma fin nelle marche le si trova sono quelle che i tedeschi chiamano Fesperbild l'immagine del Vespro cioè del momento della deposizione in cui il Cristo viene staccato dalla croce ed è posto innanzitutto in grebo alla madre e tra l'altro è anche in Francia si diffonde qui siamo invece in presenza di un'opera fiamminga sicuramente paragonabile con sculture analoghe della zona di Tournée vero? e perché a Ceva fosse ce n'è un'altra vicino a Chieri ma là ce lo spieghiamo perché è a Borgo Cornalese che era feudo della famiglia Villa questi Villa di Chieri del Quattrocento erano rappresentanti addirittura dei mercanti piemontesi alla corte del Duca di Borgogna e avevano banco perché praticavano il prestito tu supegno una specie di usurari vero a 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 eccetera eccetera e Chieri era una specie di come dire di grande galleria di opere fiamminghe la chiesa di San Domenico dove i Villa avevano la loro cappella aveva un Van der Weyden che la famiglia ha ceduto nel novecento ed è stato espatriato nel 1930 e finito la collezione Abec di Zurigo un quadro un altare spettacoloso avevano un altare scolpito che si trova adesso al museo di Bruxelles museo reale del museo dei paleriali di Bruxelles e invece i Pensa di Marsaglia tanto per parlare di vostri consterrani che erano tra i più grandi mercanti di Lione si erano provveduti sempre a Bruxelles uno spettacoloso altare con la vita della Madonna scolpito e dipinto e scolpito voleva dire intagliato e con una policromia prodigiosa più ricca di quella di una tavola pittorica che si trova a Bruxelles nel museo della città di Bruxelles perché i mercanti fiamminghi sono stati all'occhio e quando le famiglie piemontesi vendevano alla fine dell'otto inizio del nove sono venuti a comprarseli adesso il Piemonte potrebbe vantare a fronte di altre aree italiane questa ricchezza di patrimonio artistico che viene verrebbe dai Paesi Bassi ma c'era un altro luogo dove arrivavano cose fiamminghe della Genova e qui siamo sulla strada della Liguria a Ceva questa pietà vedete che nella base ha non so se lo si vede una specie di stemma che non è uno stemma e una marca di mercante formata dalle cifre del suo nome e erano le stesse marche con cui segnavano le merci le valle delle merci che viaggiavano vero così ogliatti e così via quindi chiaramente è stato un mercante diceva il quale ha dedicato questa statua che si era fatto venire addirittura dalle Fiandre vero dalle Henù mi pare che Tunessia nella provincia dell'Eno vero al santuario del suo paese vero a Genova ha altre opere di analoga provenienza quindi sempre c'era proprio un corridoio fior di opere fiamminghe a Genova di più grandi pittori soprattutto all'inizio del Cinquecento d'altronde Genova era legata anche all'impero e l'impero aveva a quell'epoca acquisito tutti i paesi bassi per via della successione ai ducchi di Borgoglio vero ma c'erano rapporti commerciali per cui queste cose viaggiavano come investimenti se vogliamo nella bellezza e con una dedicazione religiosa che faceva onore a chi le portava saranno stati degli ex voto però erano anche dei segni diciamo pure non facciamo della sociologia a buon mercato ma indubbiamente di una certa superiorità intellettuale vero di Custi da veri signori io non ricordo più ma abbiamo anche una pietà nostrana che viene da Dronero ed è finita il Museo Civico di Torino per acquisto dell'Ottocento ed è anche questa di questa scuola tra Cuneese e Ligure a cui appartengono i vari crocifissi ce ne ha un altro a De Monte per esempio di crocifisso di questa scuola e molti altri è singolare il fatto che il Cristo ma già in quella pietà fiamminga che abbiamo visto rappresentato in proporzioni molto più piccole della Madonna e non è una goffaggine dell'artista che per economia ha cercato di far stare nello stesso blocco di legno la figura di Cristo ma è un riferimento molto fine a dei testi mistici per esempio di Enrico Suso in cui la Madonna dialogando e non si capisce se è un'apparizione o se è un'immaginazione del fedele vero gli presenta suo figlio tenendolo in grembo morto raccolto dalla croce come quando lui era bambino e ricapitolando tutta la storia vero di questo figlio che portava in sé il mistero di questo terribile destino perché insomma mi sembra molto giusto immaginare che la Madonna nel momento in cui ha ricevuto il colpo del figlio in grembo non ha mica tanto pensato alla risurrezione di cui aveva avuto qualche sentore o qualche preavviso c'è il dolore della madre ecco di fronte al disastro ecco di un figlio martoriato e quindi è un figlio ricondotto a dimensioni infantili perché in quel momento la sua maternità si esprime anche nel compianto del figlio che le giace in grembo con questo ah no abbiamo parlato dell'iconografia del Cristo morto a Benevagenna in un'occasione abbastanza recente in cui si era fatta una bella mostra che è stata illustrata da un libro sulla scultura sacra nelle chiese di Benevagenna è saltato fuori nella chiesa dei Francescani guarda caso i Francescani hanno avuto sempre un grande culto per la passione di Cristo questa statua linea che adesso è caricata su un fianco per far vedere com'è che è un rebus per il semplice fatto che osservandola bene ci si accorge che in origine le braccia erano articolate cioè avevano delle giunture nelle spalle e ai gomiti per cui questa figura poteva distendere le braccia come il Cristo in croce e ce ne sono in giro ce ne sono in tutta Europa le facevano anche a Firenze anche dei grandi scultori nel Quattrocento servivano per questa cerimonia anche da qualche parte dicevano della schiovazione cioè dello schiodamento della deposizione che avveniva il venerdì santo in cui si faceva questa specie di teatro sacro il crocifisso veniva staccato dalla croce e portato entro una specie di cataletto laddove c'era quell'allestimento che poi noi abbiamo chiamato il sepolcro ma che era invece il deposito del Santissimo nel Triduo Pasquale ma c'era una coincidenza un tantino di pasticcio diciamo tra le due tra le due funzioni e chiaramente questo Cristo veniva usato inizialmente per questa cerimonia che era praticata anche dai francescani milanesi a Sant'Angelo a Milano nel pieno Settecento è stata studiata molto anche a Varallo nel Sacromonto c'è una scuola giacente di Cristo che si è restaurata e si è vista che è tutta articolata anche lei quindi è stata diciamo riciclata da una destinazione liturgico-rappresentativa a una fissa vero nella evocazione del mistero permanente del Cristo nel sepolcro ho la impressione di avere finito il mio repertorio sì non mi ha finito e io ringrazio l'uditorio della pazienza con cui mi ha seguito non solo la pazienza ma devo aggiungere l'evidente partecipazione perché mi ha fatto felice indubbiamente vedere questo segno di attenzione vero per cui faccio i complimenti non per avere fatto a me questo piacere ma perché evidentemente siete portatori di una passione per queste cose che d'altra parte ho già percepito mentre parlavate della vostra organizzazione del vostro volontariato che vi fa onore fosse così in tutta Italia in tutto il mondo non abbiamo più problemi di tutela dei beni culturali e di valorizzazione complimenti grazie allora ringraziamo il professor Gentile penso che lo immaginavo è stata una lezione fantastica poche volte abbiamo potuto ascoltare una una disamina del genere in più per telefono mi aveva detto ma forse me l'ha tenuto nascosto apposta mi aveva detto che faceva vedere delle immagini lontane sa mi perdono e ci ha fatto vedere tutta roba vicino a noi che conosciamo e che facciamo e tutto quindi io direi che io l'ho trovato stupendo il prossimo il prossimo sabato concluderemo questo discorso sulla gli arredi nell'epoca post tridentina quindi dopo il concilio di Trento c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda vuole non so approfondire qualcosa penso che il professore lo lasciamo tranquillo seduto io mi avvicino se c'è qualcuno capisco che ho dato un campionario di oggetti molto vari e qualcuno mi potrà riproverare anche di non aver messo tante cose ecco questa passata attraverso le vostre cartelle è stata assolutamente adeguata insomma voleva essere una serie di assaggi ecco se qualche cosa vi incuriosisce in particolare dal punto di vista iconografico della funzione di tutte cose spero di sapere rispondere probabilmente se non si sottiene più modese devi avere pasta tanto abbiamo modo di vederci anche sabato prossimo abbiamo ancora preparato ecco non so cosa riesco a metterli insieme ma anche lì cercherei di scorazzare attraverso anche altre zone è vero come dico mi sono occupato della Val di Susa mi sono occupato molto della Malsesia voi direte troppo lontano noi i Malsesiani lavoravano fino in Valle d'Aosta e forse qualcuno arrivava in Valle di Susa quindi erano degli specializzati come anche i Luganesi pensate per esempio a San Luzzo in San Giovanni c'è un altare piramidale magnifico di quelli fatti proprio come come dire un castello una torre di Babele che in realtà è una esaltazione del crocifitto del tabernacolo del culto e un quaristico era la Luganesa si trova esclusivamente nella zona che va da Como al Lago Maggiore alla Valsesia e poi in qualche in Valle d'Aosta dove emigravano i Valsesiani come costruttori d'altari e poi in Savoia ma non più in quale è un caso isolato ma si spiega perché i Domenicani nella chiesa di San Giovanni in maggioranza erano erano bardi e quindi si sono fatti fare l'altare tabernacolo come entra in uso sulla traccia anche in quel caso lì l'influenza di Carlo Bonromeo che è stato un po' il legislatore in materia di corredo del chiese vero e quindi è facile che sia stato fatto eseguire da maestranze che venivano di là ecco ma poi il fenomeno della migrazione negli antici pensate gli stucatori vero i bel tramelli che lavorano anche qui in questa zona erano lumanesi vero la gente per pagnotta e per diciamo bisogno di lavoro competenza e anche espansione della loro esperienza umana erano abituati a viaggiare tantissimo e a consegnare la loro cultura le risorse della loro fantasia e della loro tradizione anche i territori molto lontani che sapevano apprezzarli ecco ci trova niente in questo così no 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 non so non so se avete notato una cosa il professor Gentile ci sta raccontando cose che ci hanno illuminato ci hanno aperto delle prospettive totalmente nuove proprio per la nostra arte morregalese ora la prossima volta ci parlerà appunto del post-tridentino ma sapete che poi io ho una deformazione un po' professionale mi piace tantissimo più che altro l'epoca medievale lo sapete tutti e quello che ha detto il professore oggi personalmente a me ha aperto un mondo ma davvero mi ha aperto un mondo e mi ha aperto anche degli stimoli nuovi per approfondire certe cose e penso che questo sia stata la cosa io reputo che sia stato troppo breve io non è che è vero saremmo ancora qui ad ascoltare troppo breve non c'è qualcosa d'altro ma allora facciamo una cosa facciamo un mini intervallino facciamo un mini intervallo va bene dovevamo farlo prima ma lo facciamo ancora adesso per non vi lasciamo libera uscita 10 minuti poi ricominciamo di nuovo qualche piccolo c'è non possiamo lasciarlo andare via troppo bravo nel delfinato e hanno avuto una diffusione enorme con migliaia di adepti in tutta Europa e tenevano questi ospedali in cui curavano soprattutto le malattie di carattere tipo la pellagra la lebra eccetera malattie della pelle in sostanza essenzialmente le curavano con degli guetti che erano fatti col grasso di porcellini per cui i porcelli di Sant'Antonio potevano razzolare dove volevano e in Toscana era una razza speciale che aveva come una striscia scura come una cintura vero attraverso la pancia questa iconografia da notarsi che Sant'Antonio nasce come nasce vive come un'eremita della Tebaide quindi le espressioni del monachesimo più antico vero così e poi attraverso una strana metamorfis una trasmissione tutta facile da capire arriva in Europa e diventa come dire il Signore del Fuoco di Sant'Antonio e il Fuoco di Sant'Antonio che era del Pestoster e tutte le altre forme di malattie così con deformazioni popolari per cui diventa a un certo punto un santo temibile se non lo onori abbastanza te lo può mandare il Fuoco quindi ci sono delle preghiere che gli dicono senti ricordati che io mi sono sempre inginofregato di fronte alla tua immagine tieni lontano da me la tua ira guarda che io ad ogni modo questi questi ospedali curavano queste malattie e quando non era più possibile curarle amputavano gambe e braccia e era sempre una risorsa perché una volta che uno era monco poteva chiedere l'elemosina con maggiore successo non tutto lo so lo siamo ripivati ad ogni modo la diffusione è enorme a un certo punto forse perché queste malattie in effetti erano anche endemiche venivano sapete dall'uso della segala cornuta per esempio e poi potevano essere anche contagiosi insomma e così e insieme si mescolavano forme di lebra di altre patologie insomma i suoi attributi sono oltre il tau quella lettera greca che corrisponde anche lui ha anche un bastone che però è un bastone da abate i bastoni da abate insomma erano fatti a foggia di tau però così come un t qui non ce l'ha il bastone è un po' un sant'antonio minore questo qui al campanellino perché la leggenda dice che si aggirava tra gli anacoreti gli eremiti che vivevano in queste capanne nel deserto e li richiamava con il campanellino alle preghiere eccetera e l'attributo del porcellino e la statua che c'è a Sant'Antonio di Ranverso c'è il suo porcellino ha una faccia terribile quel Sant'Antonio ma non per insipienza dello scultore perché di fronte a queste statue di Sant'Antonio ce n'era una per ogni ognuna di queste case coloro che entravano non soltanto come monaci ma anche come ricoverati permanenti perché ormai i poveracci potevano vivere solo di dovevano giurare e rispettare degli statuti delle regole di comportamento quindi questo terribile maestro come dire sovrintendeva queste cerimonie e doveva incutere appunto rispetto e soprattutto l'osservanza di queste regole però la diffusione della sua venerazione è universale in Europa anche al di fuori dell'azione di questo ordine religioso ovvero come dico vi sono anche queste preghiere nei repertori di preghiere francesi che fan vedere come fosse popolare il suo culto poi a un certo punto si è specializzato nella protezione degli animali che è un altro passaggio stranissimo perché nell'iconografia di Sant'Antonio c'è un episodio della sua vita in cui lui viene assalito da dei demoni sotto forma di mostre con lo bastonano gli viene fatto di tutti i colori e allora questa frequentazione per così dire attraverso le tentazioni dei mostri dei demoni di queste ossessioni diavoliche eccetera così fa sì che diventi poi uno una specie di domatore di uno che ha a che fare con gli animali e anche l'allevamento dei porcelli per ricavarne appunto il grasso che serviva per gli unguenti fa sì che diventi un po' il protettore di tanti animali da cortile però è nell'iconografia popolare è nelle stampe delle cromolitografie che si attaccavano nelle stalle lo si vede circondato da galline o che asini e tutto quanto ecco è un santino che diventa ad un certo punto meno temibile e più meno redutabile come dicevano i francesi e più confidenziale e guardate un po' bene se non salta fuori il porcellino da qualche parte sarebbe anche quello che si trova all'opatria di Sant'Antonio e per il video che ne trova e lo c'è per il video e già Sant'Antonio dunque ma quello lì certe volte è anche Sant'Antonio da Padova non è l'abate non è l'abate è l'Antonio da Padova non so perché questo grande predicatore Francescano sia diventato il trovaroba no eh ma sono quei culti così nel vento c'è una devozione enorme per Sant'Antonio posso confermare che nella chiesa varnita sì quando si vuole trovare qualche cosa si prega ma Antona ma qual è? è quello l'altro è certo è quello l'altro non è quello da Padova è quella l'abate lo è vedete la migrazione nelle specializzazioni ma è interessante sta faccenda quindi è orientale la faccenda ma gli attributi dei Santi camminano in giro per il mondo in modo strano e sei prestato l'uno con l'altro sì sì volevo chiedere una cosa perché vedo che il professore è molto no no ma mi sentite ma sì è molto ferrato anche e giustamente nell'iconografia nell'iconografia dei Santi e volevo chiedere esistono poi dei Santi dei gruppi di Santi che sono più a cui sono più devoti certe categorie di persone dei ceti sociali del medioevo o roba del genere per esempio i Santi a cui più di tutto dedicavano le loro preghiere il ceto aristocratico perché c'è un gruppo di Santi che di cui sono San Michele anche per esempio Sant'Uberto Santa Caterina d'Alessandria o no ma sì Santa Caterina perché la fanno come una principessa infatti ecco ecco poi li andiamo nella pura leggenda ecco Uberto che prima è Eustacchio o cose simili è un soldato è un poi vediamo anche i Marchesi di San Duzzo cosa fanno prendono questo Chiaffredo di incerta origine si sospetta che fosse una remietra in origine lo ascrivono alla tradizione dei Santi I Guerrieri che poi viene ancora rimaneggiata dal Meranesio questo storico questo fantasioso delle tradizioni religiose si eccetera in modo anche loro hanno Costanzo e Chiaffredo che sono due Santi Cavalieri la corona d'Inghilterra c'è San Giorgio allora cosa fa il re di Francia visto che non può fare un ordine di San Giorgio lo fa di San Michele quindi ancora più su pur sempre un santo in questo caso un arcangelo un guerriero vero è quello senz'altro poi ce ne sono anche altri ho visto in giro di 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 Santi molto venerati degli ordini però sono di solito i Santi Cavalieri i Santi Cavalieri ecco in San Giorgio è venerato molto più al sud noi in Italia che a loro chiese dedicata a San Giorgio ne trovi molte più al sud chiese dedicata a San Giorgio che a loro ma ce ne sono un po' da tutte le parti allora San Giorgio è dirigente orientale ah sì altro che nasce a vita in tutta la chiesa di partire ortodossa viaggia con Giorgio certo ecco è il santo orientale che ha chiesto a Dio la grazia di diventare brutto e gli ha dato una testa di cane non so c'è questo santo cinocefalo che fa parte dell'iconografia anche orientale abbastanza raro perché era un po' troppo ecco era un po' troppo ma allora però questa cosa qua mi sta facendo venire in mente chi era a Nubi ah vabbè se ne si sa no ma per dire arriviamo però siamo sempre nell'Oriente tutto arriva però è un po' difficile che i cristiani copti o che mutuassero delle divinità egizie e gli dessero quasi un significato cristiano per quanto la via delle leggende esterminata insomma tutto può capitare si è detto anche fin troppo c'è chi ha detto che le madonne more vengono da Iside insomma ah beh no è un po' troppo però l'hanno detto abbastanza per tempo quello già nel settecento ecco ma perché ci sono ecco le madonne nere qual è il motivo? sopra un bel convegno qualche anno fa a Europa dove tra l'altro la madonna originalmente non era considerata come madonna mora e sono nel seicento che cominciano a prestare attenzione ci vuole il microfono va bene così è solo nel tu che le madonne more vero intendiamoci l'attenzione per qualche icona scura di pelle è abbastanza precoce c'è per esempio a Praga ci sono due icone una delle quali di origine bizantina fatta copiare dal re Venceslao che in cui il pittore ha chiaramente imitato nella copia che fa in epoca icotico di una icona bizantina scura questo oscuramento delle icone dipendeva anche da come erano dipinte dalla base del colore che sovrapposti avevano una tinta verde scura su cui veniva sovrapposto invece il rosa che così per attraverso un effetto ottico particolare una particolare trasparenza il fatto di usare il verde negli incarnati lo usano anche i pittori in epoca più vicina a noi ad ogni modo questa madonna che è conservata a Praga ha un'aureola d'oro incisa addirittura sul fondo della tavola con su scritto Nigra Sum Sed Formosa ossia la facciulla del cantico vuol dire che già allora hanno attribuito a questa nigritudine di questa immagine mariana un riferimento alla facciulla del cantico che attraverso l'interpretazione tipologica della Bibbia veniva già confrontata con Maria e una qualche giustificazione però le giustificazioni esplicite io le ho trovate solo più tardi cosa succede a Europa per esempio o anche a Crea che l'hanno restaurata e saltata fuori invece bianca e rosa che non è più la madonna nera di Vodafone e lo stesso a Europa mi diceva il prefetto di Europa che quando lui toglieva la polvere anzi non si posa la polvere su una statua d'Europa imprendibile ma una spolveratina gliela dava vedeva in trasparenza sotto questa tinta superficiale questa glassa diciamo così che c'è sotto c'è un incarnato lasciamo stare l'icona di Praga ma quasi sempre queste madonne non erano brune in origine però l'annerimento è stato considerato a un certo punto come un attributo no? e vedevo per esempio c'era una famosa che era al Puy en Vellet nel Massif in Francia che è stata distrutta dagli emissari della convenzione nazionale perché le consideravano forme di idolatria e di superstizione che bisognava spazzare per far triunfare la mia ragione ma a parte questi balordi che ne hanno fatto anche in Piemonte per esempio i Giacobini hanno dato alle fiamme la statua di Belmonte sapete che c'è nel Canavese questo santuario che è stato salvato da una contadinella a rischio della vita ed è una bella era una bella statua del 1200 che poi è stata rispucata e ridorata adesso non non pensa che sotto ci sia questa immagine mariana così importante che si riconnette a quelle che si chiamano della sede sapienzie c'è la Madonna che tiene in grembo il bambino e diventa seggio della divina sapienza la divina sapienza comparata al verbo incarnato eccetera la Europa per esempio la metà del 600 dicono qualcuno comincia a dire che si per il tempo per il fumo dei ceri si è oscurata questa immagine ma qualcun altro aggiunge è un provvidenziale oscuramento perché in certo qual modo questo velo vero così nasconde il fulgore della Madonna non saremmo degni di guardarmi oppure così è quindi un segno di umiltà della Madonna per cui il richiamo del cantico sono scura di pelle ma graziosa vero che non vuol dire che fosse una negretta era solo perché era una contadina apprezzata la facciuna del cantico e allora cominciano a dire che ha una doppice fusione questo oscuramento del volto della Madonna quello di essere più accostante meno impressionante nel fulgore della sua bellezza ma è anche di incutere un certo riguardo per i malintenzionati che qualora avessero cattive intenzioni appunto nei riguardi del suo santuario che voleva dire per rubare essenzialmente ororesi ne sono infugati vero che diventa un po' troppa il cantico e più o meno questa spiegazione affiora ma sempre tardi si ha cioè se uno guarda l'iconografia di queste immagini come venivano riprodotte le incisioni o descritte anche solo verbalmente per esempio la Madonna d'Europa in pieno seicento continua ad avere la faccia chiara non è ancora considerato un attributo importante poi dopo che diventa la Madonna nera per Antonomasia la stessa cosa capita per la Madonna di Loreto che si dice che ha seicento dicono che ha una coloritura che tende quasi a una specie di grigliore argenteo ma sapere per un'alterazione delle vernici che c'erano sopra indotta anche dal fumo delle candele da quelle cose lì e poi a un certo punto diventa obbligatorio avere quasi questo volto oscuro c'è anche un altro fenomeno nel 1004 ma anche prima dal 1002 in poi a Roma avevano molte icone molto venerate della Vergine Santa Maria del Popolo e altre la Madonna Sistina eccetera e a un certo punto a forza di riprodurle danno loro questo attributo l'attributo del volto oscuro che era proprio semplicemente dovuto alla sporcizia che si era depositata su queste immagini ecco quindi non nascono mai madonne nere non nascono mai nere ancora hanno fatto delle belle ricerche nell'Italia meridionale la professoressa Calomariani di Bari d'accordo con le sovintendenze hanno fatto dei sondaggi proprio nel pigmento vero e hanno visto che sotto non sempre la loro brava policromia piuttosto vivace che col tempo poi cosa succede a un certo punto glielo hanno rinforzato anche questo all'erimento perché gli ha dato un po' d'olio di noce sopra che le ha rese più morette insomma gli ha dato la titarella ma nessuna nasce mai come nera se non quella dell'icona di Praga ma che è intenzionalmente copiata da un'icona antica e le viene attribuito questo attribuito della nerezza dell'allegritudine con quel riferimento biblico che fa già capire che si dà già un significato spirituale di umiltà di proprio di nascondimento quasi ecco l'ho chiesto perché qualche giorno fa mi ha proprio chiesto delle madonne nere fortunatamente la vostra del mondo vino non è nera ecco no 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 la nostra no la nostra non è e lì ci sono state tante fantasie ma già nel settecento c'è un erudito che descrive quella di le puyam vele dice che sicuramente è la dea iside perché gli egizi non sapevano fare il loro dei se non scuri visto che anche loro di solo ne prendevano tanto era così e poi questa immagine di iside era trapassata nel mondo cristiano rappresentare la madonna con il bambino ecco certo certo sì perché poi c'era appunto questa ma questa usurpazione diciamo di immagini classiche per rappresentare o antiche per rappresentare invece il divino per rappresentare delle immagini sacre cristiane stavano attenti e c'era stata forma di conograzia da parte dei cristiani che hanno fatto fuori gli idoli quindi non erano tanto inclini accoppiarli ecco sì anche se però nell'arte paleocristiana qualche reminescenza dei sarcofagi specialmente romani c'era questo è ovvio il linguaggio il vocabolario figurativo era quello sì poi forse certe volte anche voluto per far capire che quello era passato e c'è il cristianesimo sì alcune volte grazie c'è qualche altra cosa va bene così a Cracovia c'è una Madonna nera certo quella di Cestocova pensate che quella di Cestocova è una Madonna ridipinta perché già l'originale doveva essere interessante importante ma a un certo punto tra il 1300 e il 1400 aveva perduto quasi tutta la pittura e rimasto il legno sotto e il pittore che probabilmente era italiano l'ha dovuta ridipingere e ha ridipinto anche la ferita che ha sul volto perché lì c'è la leggenda che un tartaro o qualche altro cattivo le aveva scagliato una freccia che l'aveva sfregiata e questo sfregio è dipinto chiaramente di sopra che poi ha anche un altro aspetto ha un manto azzurro a gigli d'oro cattacicova è il periodo in cui gli agio hanno avuto il regno di Polonia quindi l'hanno un po' nazionalizzata come amano fare i francesi e quindi è polacca fino a un certo punto è la loro consolata tra l'altro la consolata sapete che quando la si è restaurata ma già prima lo si intuiva ha rivelato dentro la sua cornice una scritta con sottoscritto Sancta Maria del Popolo delle Urbe ossia è una replica della Madonna del Popolo che ha avuto un enorme successo nel 400 all'epoca di Sisto IV quando parecchi ci sono date parecchie riproduzioni fatte da pittori come Antonio Azzo Romano o Melozzo da Forlì che ce ne sono parecchie in giro e probabilmente quella lì è di Manu di Antonio Azzo Romano pensate che io ho conosciuto un signore il quale poverino aveva la consolata ma non una copia di adesso era una roba del 400 e vi dico anche che cosa se ne fa uno di una icona del 400 dipinta su una tela molto sottile ma con tanto di expertise fatto da un grande storico dell'arte Mason Perkins che è quello che ha lasciato tutta la sua collezione al convento di Assisi che dice ho visto la sua non è 40 la sua Madonna sicuramente di Antonio Azzo Romano mi affretto a restituirla perché come cittadino inglese tutto quello che ho mi sarà requisito e allora questo signore aveva questa diciamo perizia di un grande storico dell'arte l'ho aiutato a pubblicarla su studi piemontesi la professoressa Griselli gli aveva fatto un bel articolo gli avevano passato io gli elementi ad ogni modo lui sperava nessuno della chiesta nessun museo si è fatto avanti o cosa vuoi che si compri una Madonna in più ecco non ha e poi c'è la consola con la casa il tuo signore come? c'erano gli eredi che oltretutto se guardate la Madonna della Consolata è molto bella ha una sua classicità perché è stata reinterpretata da questo pittore che grosso modo era un seguace di Piero della Francesca e gli ha dato questa maestà e al tempo stesso questa grande umanità terna insomma così e poi ci sono state tutte le riproduzioni l'hanno anche un po' troppo dolcificata come immagine ma è ha questa sua dignità quattrocentesca ecco comunque è un'icona anche lei e posso raccontarvi questo che una volta che due colleghe che già Maria ha conosciuto una russa e una bulgara sono venute a Torino sono andate alla Consolata si prostravano davanti alla Consolata perché tutte quelle luci quegli ori lucicanti li ricordava le loro chiese e poi soprattutto l'icona di Maria ecco non dico Pejas la Marco Venezia eh già e scura di quella perché Angelo è anche Ancaela è di Venezia è proprio veneziano è la mia era degli gingari a Saint-Marie-Tlaver anche la eh già è già è quella di Monserrat che si chiama la Moreneta no? la Moreneta che vuol dire la Negretta ecco e sono tutte diventate scure col tempo col tempo ma mica le si restaurava allora non sono nate nere certo basta quello ma anche le alterazioni comunque dei pigmenti e poi i pigmenti questa preparazione verde che c'era sotto certe icone per purgo questo dei dettami dei monagini del monteatro c'è questo di fuori una base verde puoi stendere sopra delle usce di bianco di rosa velature così che poi diventano particolarmente sparisce ma il verde era poi fatto con il rame e quindi scurisce poi è un gioco di colori complementari verde più rosa perché viene un rosa come perlaccio proprio palescente bello grazie ancora a tutti allora appuntamento a sabato prossimo di nuovo con il professore e facciamo un salto il post tridentino grazie ancora a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti